Un amore incondizionato per gli animali e in particolar modo per i cani. E' la grande passione condivisa da una cinquantina di residenti di Guglionesi che nel 2017 hanno dato vita a un'associazione Zampe nel Cuore che si prende cura soprattutto dei cani randaggi. Li tolgono dalla strada, li nutrono, li curano, li rimettono in sesto, li dotano di microchip, li vaccinano e riescano anche a farli adottare. Dal 2017 quasi 200 le adozioni per gran parte all'estero. Un lavoro, quello dell'associazione, che ha permesso di limitare il fenomeno del randagismo che proprio a Guglionesi è molto diffuso. Noi fondamentalmente ci occupiamo del benessere animale. Quindi benessere animale significa tutto ciò che ruota attorno al mondo dell'animale. Recuperare animali randaggi. Tante volte gli animali randaggi sono animali che necessitano di cure. Quindi per cui le cure che i randaggi devono subire tra virgolette da parte di noi volontarie è anche quello di essere portati dai veterinari. Quindi di conseguenza troviamo animali che magari sono stati investiti, animali che magari sono ancora peggio, dico io, ammalati. L'associazione non riceve alcun contributo e tutte le spese sono a carico delle socie, spinte da un amore speciale per gli animali, che loro ricambiano con altrettanto affetto quando le vedono arrivare. Lui è Adriano. Quando è stato trovato era in condizioni pessime, ora gode di ottima salute e cerca un padrone. I cani ora sono tenuti in uno spazio messo a disposizione da una signora che fa parte dell'associazione e che è stato sistemato e organizzato in maniera certosina. Ma ci sarebbe bisogno di uno spazio più adatto e di cui l'appello a un aiuto da parte del comune che non può non riconoscere il grande valore civico che spinge l'associazione. Non ci ha mai aiutato nessuno. Facciamo tutto, tutto a spese nostre. Abbiamo un piccolissimo rifugio che ci è stato, non donato, ci fa usare una nostra social. L'abbiamo recintato noi tutta a spese nostre e abbiamo quei pochi cani che possiamo tenere lì. Gli altri invece andiamo in giro noi sul posto per evitare che risalgono in paese. Chiediamo aiuto, insomma, in qualche modo. Io non dico manco denaro. Un posto più idoneo, più dignitoso per tenere questi animali, insomma, almeno questo dal comune di Guglionesi. Almeno questo.